Il FIAIP in questi anni, insomma, nella sua vita è stata seguita, dicevamo, da molti amici, da molte persone, è fondamentale il contributo ovviamente della politica, di chi ha ruoli nelle istituzioni, io chiamo qui sul palco l'onorevole Katia Polidori, allora, che è qui, vediamo un po', io mi devo inforcare gli occhiali perché, eccola. Buon pomeriggio, prego, Sisi. Buon pomeriggio a lei. No, no, vada, se vuole fare un saluto. Allora, innanzitutto, intanto, bello rivedervi, ci siamo visti l'anno scorso a Firenze, abbiamo fatto una lunga, lunga chiacchiera che derivava da, come dire, un anno intenso di lavoro, insieme al Presidente, ci siamo impegnati e divertiti allo stesso tempo nell'inseguire tutti i capricci di un decreto parlamentare. Io mi scuso subito perché devo partire proprio a proposito, ahimè, di terremoto, ho un aereo tra pochissimo perché stasera al Teatro Coccia di Novara abbiamo 800 persone, siamo già riusciti a comprare una parte della mensa per le scuole elementari, stasera ci impegneremo per comprare il resto della mensa, cioè tutta la cucina. Ma ve lo dico perché io vorrei subito ringraziare Paolo, credo tu debba esserne molto orgogliosi, i primi ad intervenire per quanto riguarda il terremoto sono stati i tuoi colleghi del provinciale, della FIAP di Perugia, che hanno immediatamente, gli farei un applauso, hanno immediatamente acquistato un container per permettere ai vostri colleghi che non hanno più né casa un ufficio di avere quantomeno un appoggio. Allora, oggi, Paolo, ci abbiamo riprovato, siamo in fase di nuovo d'attacco, esattamente come l'anno scorso. Abbiamo presentato due emendamenti, uno lo sapevamo, ci hanno detto che non era proprio nella materia, ma noi ci abbiamo riprovato, sapete di cosa sto parlando perché so che vi sta molto a cuore, era l'emendamento, insomma, che io lo chiamo l'emendamento sulla concorrenza sleale, perché questo è sulla, sull'intermediazione bancaria per quanto riguarda gli immobili. Abbiamo fatto una lotta impari, perché vi dico, il vostro Presidente ha impegnato tutto se stesso e tutte le proprie conoscenze, ma non ci siamo riusciti, non è facile lottare contro l'ABI, insomma, stiamo parlando di associazioni, benché la FIAIP abbia 40 anni, qui stiamo parlando veramente di un colosso, ma noi non demordiamo, tant'è che l'abbiamo ripresentato, perché, come dire, meglio far ancora presente al Governo quello che sta combinando. Non si è reso conto dell'importanza, oggi qui siete 600, ma siete tantissimi, dell'importanza dell'intermediazione immobiliare, che io chiamo anche intermediazione sociale, cioè quello che state facendo è, in un periodo peraltro così difficile, intercettare i bisogni delle persone, delle persone che hanno bisogno di vendere, delle persone che hanno bisogno di comprare e subito dopo la salute immagino, Paolo, che il bene primario sia assolutamente quello della casa. Ne abbiamo presentato un altro, il 2.0.21, ci stiamo provando, ci hanno detto che, come dire, può andar bene, nel senso che va bene presentarlo in questa legge di stabilità, sono incentivi agli sgravi fiscali sulla permuta. In realtà mi pare un emendamento assolutamente intelligente, con questo emendamento FIAP ha voluto, abbiamo lavorato insieme per cercare di dare una spinta al settore immobiliare e, del resto, adeguarci a quello che dovrebbe essere il futuro e il ruolo di un'associazione di categoria che contribuisce anche nel sociale, cioè quello dell'adeguamento energetico. È un emendamento costruito molto bene. Probabilmente, e ve lo dico qui, mi dicono, mi hanno detto mezz'ora fa, che forse domenica ce la faremmo a votarlo, perché lavoreremo anche domenica. Non vi prometto nulla, stiamo veramente sensibilizzando tutto il Parlamento da questo punto di vista. Di certo c'è un problema. Abbiamo lavorato molto sul decreto concorrenza, io qua vedo i miei colleghi del Senato, senatore e vicepresidente del Senato, e vi devo però dire una cosa, e voglio star lontana da posizioni politiche, vi prego di credermi. Vi dico solo che noi potremmo avere una sola Camera, ne potremmo avere dieci o venti, ma non cambierebbe assolutamente nulla. Quando le leggi si vogliono fare, le abbiamo approvate in 17 giorni, Camera, Senato e Camera. E invece il nostro decreto concorrenza, dove tanto abbiamo fatto per la confedilizia, per il settore immobiliare, per la FIAP, si è perso al Senato. Magari poi ci diranno i miei colleghi dove è finito. Non si sa nulla. E se non erro, Paolo, abbiamo fatto la stessa convention a novembre, l'anno scorso non abbiamo parlato, l'abbiamo approvato circa a metà settembre. Credo che quello è stato lasciato proprio esattamente su un binario morto e non abbiamo più speranza. Però, proprio in onore di questa festa meravigliosa che state facendo, spettacolare anche l'allestimento, non demordiamo. Vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Se non ci sarò stasera con voi, sapete qual è il motivo, un motivo veramente importante e sapete anche che però sono sempre vicino al vostro settore. Ci credo veramente, non solo dopo aver visto l'impegno particolare della Presidenza e di chi aiuta la Presidenza, ma anche dopo essermi resa conto, conoscendovi anche uno ad uno in certe situazioni, di quanto voi siate veramente professionali. Credo che l'aiuto dell'associazione di categoria su questo sia fondamentale. In bocca al lupo e auguri per altri cent'anni, non per altri quaranta. Grazie. Aspetti, 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 stia ancora qui un attimo. E questa è una giornata anche di sorprese, no? Sì. Allora, la FIAIP in questo quarantennale, siccome ci sono politici e politici, al di là delle forze, sai che noi siamo un'associazione, siamo apartitici. Io ti ho visto lavorare con un impegno tale su quello che abbiamo pensato insieme, perché se le idee sono comuni si condividono e altrimenti no, che se tu lo accetti ti vorremmo dare la spilla d'oro della FIAIP per l'impegno che hai profuso a favore della categoria e futuro di tutti noi. Grazie. Grazie, Katia. Io me la metterò subito. Per te. È un po' difficile, però... Se la possiamo fare, ci riusciamo. Guarda, me la porto via in aereo. Allora, guarda, qui ti metto... Vabbè, me la sistemo dopo. Ciao, Katia. Grazie. Grazie. Grazie a noi politori. Allora... Grazie.